Il mio contributo per il Moebius 2024 sarà un tentativo di delineare una storia dell'intelligenza artificiale. Ovviamente anche l'AI ha la sua storia che sviluppa nel corso del tempo. Partiremo grossomodo dalla metà del Novecento con naturalmente il test di Turing, con l'invenzione del Perceptron, con l'irruzione direi anche nella cinematografia del tema dell'intelligenza artificiale. Vorrei analizzare essenzialmente due grandi paradigmi che nel corso del tempo si sono sviluppati in relazione all'AI. Il primo è quello di dare alle macchine tutte le istruzioni necessarie per in qualche modo simulare l'intelligenza umana e dall'altro invece un paradigma che non è del tutto nuovo, vedremo quando è nato, in cui le macchine apprendono da sole. Naturalmente tutto questo ha a che fare con un grande cambiamento tecnologico che negli ultimi decenni ha investito in umanità ma che appunto ha delle radici abbastanza lunghe e tutto questo deve essere naturalmente studiato.